Il giorno d'anno riusciti a ottenere più luce di espositori, sempre a livello musicale, tra le case discografiche, produttori di solito musicali, poi magari ne parleremo un po' meglio nel tardi che avanti. Abbiamo coinvolto circa 500 musicisti che si eseguiranno in due giorni un numero debole, considerate che ogni musicista è spiegato e numerato al suo orario, un numero di musicisti, eccetera. Abbiamo fatto il coso.